cari amiche e cari amici questa è una trasmissione a reti unificate le mie reti unificate vari instagram coriandoli ferrini e chi più ne ha più ne metta per annunciare che da domenica 9 ottobre io sarò fisso dal caro amico fabio faffio nella meravigliosa trasmissione che tempo che fa andiamo in onda noi del divano un po tardino dopo le 11 ma perdonateci perché è un programma molto lungo pieno di cose e quindi il finale sarà dolce come deve essere in tutte le cose in questo tempo di grandi guerre di follia dei governi noi vogliamo dare un segnale di amicizia di fratellanza e anche di multivedute che si devono fondere o non si devono fondere importante che ognuno abbia la sua opinione con la tolleranza massima da parte di tutti e io ringrazio ultimo ma non ultimo il mio pubblico perché ringrazio si fabio che mi ha chiamato il suo staff meraviglioso ma ringrazio soprattutto voi persone che mi seguite che amate la coriandoli che amate me bonta vostra spero che non abbiate a pentirvene e cercherò di essere all'altezza della situazione delle vostre attese e dell'affetto che vi dimostrate quindi vi auguro una buona visione vedendoci da fazio tutte le domeniche fino alla fine del programma per 30 puntate grazie caro pubblico del bene che mi volete immeritato sicuramente ma voi siete magnanimi e con l'assistenza di dio andremo avanti e supereremo tutte queste orribili avversità intanto cerchiamo di sorridere alla follia della guerra che oltre tutto è anche come dice il mio amico eduardo bennato oltre che terribile è anche stupida e profondamente inutile noi saremo inutili ma almeno due risate ce le vogliamo fare alla faccia di chi ci vuole male vi abbraccio tutti e vi ringrazio e ci vedremo per un lungo periodo grazie e vi voglio bene grazie